Buongiorno a tutti, sono Massimo Zanetti, sono il direttore d'orchestra che è stato invitato qui al Teatro Lodico di Cagliari per questa nuova ripresa dell'allestimento di Carmen, un allestimento che è stato davvero molto importante per questo teatro la produzione è del 2005, Stephen McDuff è stato naturalmente premiato, ha ricevuto anche premi avviati quindi si sta parlando di una produzione veramente importante che fa parte delle produzioni più importanti di questo glorioso teatro io sono molto molto felice di essere finalmente qui, dopo tanti anni di carriera, la prima volta che vengo a Cagliari e sto riscontrando davvero un ambiente fantastico in tutte le masse del teatro, con tutte le persone con cui sto lavorando c'è un rapporto veramente meraviglioso e questa è una produzione davvero di grande spessore, devo dire che ha questa incredibile caratteristica di avere due cast fatti praticamente da giovani, tante persone che debuttano estremamente preparate, stiamo lavorando in grande armonia ed è per questo che vi voglio rivolgere davvero con grande sincerità e convinzione questo invito ad essere numerosi, a venire numerosi ad assistere alle rappresentazioni che si svolgeranno dal 22 di giugno con la prima appunto fino al 3 di luglio ci saranno 10 rappresentazioni di cui 8 appunto sono in abbonamento e 2 fuori abbonamento e vi invito numerosi a venire ad assistere a uno spettacolo eterno perché la musica praticamente la conoscono tutti e per quanto riguarda gli argomenti si parla naturalmente di quelle tematiche che non avranno mai fine, che sono sempre, sempre, sempre molto attinenti alla realtà vediamo oggigiorno ancora quanti questi tipi di fatti naturalmente succedono ma soprattutto qui trattati con questo spessore con tutte le tematiche che riguardano appunto l'amore, la morte la possibilità di svolgere quelli che sono i rapporti umani eccetera eccetera quindi è veramente un grande spettacolo io vi invito con grande gioia a questo avvenimento dal 22 di giugno fino al 3 di luglio grazie della vostra attenzione a presto grazie a tutti